Carto Robica Poloni fornisce tutto il materiale di consumo per tutte le attività commerciali Azienda leader per forniture di materiali di detergenza, pulizia e conservazione di prodotto Finalmente il primo brico in città Dove? A Bergamo, Rondò delle Valli, via Cesare Correnti 33 Brico Io, diverso dagli altri, Brico Io conviene sempre Poi, vorrei invitare anche voi, cucinate con noi, dai Vi aspettiamo in cucina, con i nostri piatti esaltanti Noi leggermente frizzanti, scaltanti, fungenti, yeah Facciamo venire la polina, e stiamo molto contenti Di avere un musico, attento le notte nel vento 3, 2, 1, Adriano ci sei? Ho già perso il cappello, partiamo bene oggi Buongiorno Buongiorno a tutti e ben ritrovati, siamo qui alla pasticceria di Adriano, qui a Seriate, via Roma 41 1, B B, sono preparata, hai visto? Bravissima Pronti per la seconda puntata delle selezioni di Leggermente Pasticcini Cosa succederà ragazzi, che è la cosa che più vi mette ansia, giusto? Voi dovrete semplicemente rifare il dolce che fa il maestro pasticcere Per adesso però ve lo presento e mi dite nome e cognome Gabriele Orlandelli Federico Todero Giorgia Pretamone Vittoria Pacheris Vi presento il maestro Adriano Via la nostra gara, fai vedere bene, state molto attenti perché dovete rifare esattamente come lui Il dolce, più o meno, spiegate La decorazione è a piacere vostro Allora, abbiamo un pan di spagna, andrà farcito, tagliato in tre fette, farcitura due parti Ok, dopodiché la torta va coperta di panna Bisogna fare un bordo di riccioli di panna Intorno ci metterete quello che volete voi Abbiamo qua tutte le decorazioni Sopra io la decoro come piace a me E dopodiché quando tocca a voi La farete a modo vostro Nel modo più bello e più fantasioso La parte scura andiamo a toglierla La scartiamo In questo modo fate scorrere il coltello su e giù E se riuscite, nello stesso tempo fate girare la torta Dobbiamo fare in modo che le tre fette siano spesse più o meno dell'altezza uguale Bene, li vedo abbastanza concentrati Ok Abbiamo fatto tre fette Adesso andiamo a preparare la crema chantilly La crema chantilly consiste in una parte di crema con un'aggiunta di panna montata Andiamo a inserire la panna nella crema Mamma mia che meraviglia Eh ragazzi? Con le mani così Mischiamo con una frusta Quando è pronta una piccola parte andiamo a inserirla nella sac à poche Qualsiasi ingrediente andiamo a usare deve essere pesato Sempre Bagniamo leggermente la fetta di pan di spagna In modo tale che non risulti poi alla fine quando si mangia troppo asciutta Col sac à poche andiamo a fare uno strato di crema chantilly Partiamo dal centro e arriviamo fino all'estremità A lui viene così bene Chiudiamo con la terza fetta Bagniamo ancora leggermente e andiamo a coprirla con la panna Facciamo scorrere Torniamo leggermente indietro L'ultima puntata anche io voglio mettermi alla prova e voglio farla Certo, certo Non mi sembra difficile a vederlo però Bravissimo, vedrai poi a farla Con la spatola attraversiamo tutta la torta Solleviamo questa parte Mettiamo sotto le quattro dita Con la spatola andiamo a prendere l'altra parte della torta Ognuno di voi ha diritto a un piccolissimo aiutino Piccolo, piccolo Allora, bordo di panna E dovete stare attenti che non vada giù, che non casca giù Ok? A questo punto qua siete liberi di fare il giro torta come volete voi Con la decorazione che c'è qua Da questo punto in poi Non importa quello che sta facendo il maestro pasticcere Ognuno di voi deve metterci la propria fantasia Verrà valutata e servirà per capire chi è il vincitore Quindi metteteci fantasia Questi sono riccioli di cioccolato bianco La decoro per gli innamorati Per qualsiasi momento della giornata della vita Grazie, grazie Sai che io sono innamorata dell'amore Molto bene Wow Un cuore di mousse di fragola Ho degli anelli in acciaio E vado a creare dei riccioli di cioccolato E andiamo a metterli fra un lampone e l'altro Prova a fare un ricciolo eh Devi premere eh Ha premuto un po' troppo Ah Non è tanto semplice fare il pasticcere Non è facile No Vediamo leggera spolverata Di zucchero a velo E una ventata di cuoricini Oh Matteo questa la voglio io però di tosta eh Applausi al maestro E ora tocca a Foglio La prova sembra complicata Però la supererò come ha fatto con molte altre verifiche Che non ho mai studiato Gli altri concorrenti sembrano simpatici Bravi Non sembrano tanto preparati La prova mi sembra facile a vederla Proviamo a farla Gli altri concorrenti mi sembrano molto preparati E anche concentrati A guardare il maestro La prova mi sembra alcune volte semplice Alcune volte difficile Dipende da quello che c'è da preparare Gli altri concorrenti mi sembrano alcuni Un po' che faranno un po' di danni E altri un po' bravi La prova mi sembra abbastanza difficile Gli altri concorrenti abbastanza sì Mi sembra difficile alzare la torta Un po' preoccupata sì Fondamentale ragazzi state attenti a usare il coltello Perché logicamente taglia Quindi fatelo scorrere piano piano Da una parte fino ad arrivare Dall'altra parte della torta Se siete in difficoltà Noi siamo qua Pronti? 3 2 1 Via! Dai, 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 dai E metterlo in corto Ok Gabriele Gabriele Federico Giorgia E Vittorio Fatemi vedere A te è uscita un po' così Così Adesso devo metterla 3 10 minuti Quante fette hai fatto? 3 3 Ok Ok Brava Brava Adesso fammi ancora uno uguale a questo E sei perfetta Dai Concentrazione ragazzi Brava Guarda lì che stiamo mettendo Ognuno guardi la propria torta Eccoci Ma io come la ricordo? Pronti? Dopo quando fai lo strato Basta, basta, basta Ok Vai Vai Federico Guardate ragazzi che siete indietro con i tempi Veloci Senta a post Vai Ma non esce? Schiaccia bene Bravo Schiaccia bene Schiaccia bene Tieni da una parte sopra e dall'altra sotto Giralà Bravissimo L'interpretazione è proprio Uguale È una fotocopia Hai un futuro come pasticcere Ho capito adesso Ok Bravo Molto bene Molto bene Il giro a torta con la raspetta ragazzi Dovete mettere la panna intorno alla torta con la raspetta Gabriele sembra più una buca di più che una torta Brava Va bene Dindelo È buona almeno? Dai Dai che ce la fai Bravo Bravissimo 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 Ragazzi potete partire con la decorazione Vai Pronti via Veloci Veloci ragazzi Tre minuti Le differenze Soprattutto tra uomini e donne vorrei dire Giro torta Ma non potete fare con le fragole tagliate a metà Con il cioccolato Come volete Eh vabbè Voi sembrate nate per fare le pasticcine Fai qualcos'altro Ma buoni Dammi quello bianco Ciccolato Quello bianco Ciccolato Mettici le fragole a metà O questo Dai Bravo Un bel tocco Dai Ah Ho scoperto la vita Bravi ragazzi Avete un grande vantaggio Perché stiamo vicino a carnevale Eh Ecco Qui si è da parte apposta Eh Bravo Molto brava Mi servirebbero un sacco 50 kg di riccioli Per la prossima puntata 3 2 1 Stop Stop Dai Sulle mani Sulle mani Via Porta La parte iniziale di preparazione Proprio di tutto il pan di spagna Tutto il tagliare Bagnare Era difficile Con le decorazioni Ho migliorato un po' Quello che c'era all'inizio La prova è andata molto bene Sono fiero della mia torta La parte più difficile È stata tagliare In tre fette la torta Secondo me la cosa più difficile È stata Coprire la torta di panna Le decorazioni Mi sono piaciute Sono fiera di come L'ho decorata la torta Mi è sembrata Prima abbastanza difficile Poi però non così tanto La prova è andata Sì abbastanza bene Le decorazioni Volevo mettere Più zuccherini Però è da scalduto il tè Adesso La nostra bella giuria Dovete controllare Queste torte Guardarle bene Perché poi Andranno Giudicate Valutate Tra poco sapremo Chi è il vincitore Secondo classificato È il nuovo È il numero 4 Chi è? Nome e cognome Vittoria Facheri Bravissima Vittoria Sei Passata alle semifinali Sì Prima Mi sono fregata Ebbene sì Giorgia Sei la prima classificata Brava Guarda Brava Sei emozionata? Sì Sei contenta? Vero? L'autore di questa torta Vittoria L'autore La principi di questa torta È Giorgia L'autore di questa torta È Federico E l'autore di questa torta È Gabriele Un applauso Tutti insieme a me Ogni giorno leggermente Masticini E torta in faccia sia Vai E torta in faccia sia GA агg есura s